Lui è Cash. Champagne? A charme, talento, audacia. Vuoi sposarmi? Nessuno riesce a dirgli di no. Ma è anche... un gran farabutto. Ma come fai a vincere sempre? In broglio meglio di voi. Lo è davvero. Mi piacerebbe perdere per una volta. Ma prima o poi troverà uno più in gamba di lui. Fa' attenzione a lui. Non è come quelli che hai fregato finora. Si chiama davvero Cash. Così mi chiamano i miei rivali. Una cassaforte. 12 milioni di euro. Ce la farà portarli via. Appena l'ho vista ho capito che io e lei faremo molta strada insieme. E dove andiamo? Me lo dica lei. Ti va di giocare? È partito. Ci sono in ballo 12 milioni. Facciamo questo colpo e ci ritiriamo. Ti vuoi divertire, ho capito. A volte non so se baciarlo o prenderlo a schiaffi. Benvenuta nel club. Stavolta ti incastrano. Non ci scommettere, perderesti. Te la vedi da solo. Qualsiasi cosa accada, non perdete d'occhi soldi. Molto bene, adesso entro in gioco io. No, non sì. Non ci scommettere. Non ci scommettere.